Ebbene signori, eccoci qua ancora una volta ben ritrovati E di Noize Kern Accompagnarvi in questo incredibile appuntamento Iberian Cup Siamo arrivati a quelle che sono le quarti di finale Siamo arrivati a quella che è la seconda selezione dei campioni Dopo un primo game dominato a parte dei Mad Lions Madrid All right, in versione dei side Macco che passano dal lato blu Cercano quindi di cambiare paradigma E di forzare gli avversari a delle scelte un po' più difficili Sono felice di ciò Sono felice di vedere che i Macco cercano di innovare Perché è stato quello che ha rotto ieri i Karma Clan Ieri abbiamo visto un 3-0 veramente netto Da parte degli uprunner della Knockout Stage Perché appunto i Karma Clan si sono rifiutati di voler innovare I Karma Clan avevano impostato quella volontà di giocare contro Yumi Per tre partite consecutive E sono stati per tre partite consecutive stompati da Yumi Stavolta non è così Viene bannato Thresh Abbiamo un tiratore da DPS in B1 Abbiamo i Macco che scelgono il blu side Abbiamo i Macco che hanno voltato pagine Quindi per i fan del team italiano Questa è un nuovo capitolo Se i Mad dovessero stompare anche adesso Ovviamente le scuse rischierebbero di scendere particolarmente sotto lo zero Però mi aspetto che i Macco comunque riescano a costruire qualcosa di totalmente diverso E che almeno vada a scoprire dei nerbi da parte dei loro avversari Perché una delle problematiche principali secondo me Al di là del permagancare Eren Che a un certo punto è stato proprio abbandonato dal suo team E tipo va bene tu muori noi vinciamo È stata una partita che non ha scoperto dei punti deboli Mentre stavolta si cerca di giocare su qualcosa di diverso Però il trade misfortune Lee Sin è un trade particolare Mi chiedo che cosa si poi voglia impostare Sì infatti Più che altro è una domanda che mi sorge spontanea Anche in virtù di quello che abbiamo visto durante l'Iberian Cup Durante le mondiali stessi Ok Ma looks che torna in grande In pompa magna Per click probabilmente Esatto per click Velocemente Sapendo che tu comunque hai Quel any ban di rispetto a Sebex Perché non provare a giocartela proprio su quel Lucian D'altronde chi è che prenderebbe una Nami Da non affiancare a un Lucian Eh lo so il problema è che Lucian come solo laner Dalla corsia centrale Ultimamente ha perso un bel po' I med vogliono No perdonami Era più il Ah per Raresh Per Raresh Gioca su B1 Lucian Cosicché la doppietta dei med Dubito che sarà una Nami La rubartela Ok ok La vorremmo annarla tutt'al più Sì no perdonami In seconda select con Esattamente Diego e poi Nami per l'appunto Ha senso Ha senso No ha senso Avevo frainteso Pensavo perché Il punto è che quando si pensa a Sebex Si pensa anche ai suoi tiratori E quindi Lucian Ai tempi che furono Quando ancora era un laner Ricordiamo una cosa Sono abilitati Vex e Akshan Ma sembra che attualmente Non ci sia nessuna priorità Su quei campioni Da parte dei vari team Evidentemente non tanto tempo Per allenarli Esatto Cioè è quasi più un rischio Che la sorpresa Di dire Ha Ti ho gabbato Con un pick Che non si è preparato Esattamente Non sono preparato a usarlo Vediamo però la seconda parte Dei ban Vedi ancora una volta Quella Leona Rimossa Sicuramente interessante L'andare a rimuovere Da parte Che altro di Machko Beh Alla fine Tore è un giocatore Che ha meritato rispetto Nella partita precedente Quindi Penso che andare a target Bannare la corsia inferiore Considerando che il tiratore È già Rivelato Non la vedo Cioè la vedo proprio Una situazione di rispetto Nei confronti del giocatore Perché noi abbiamo visto Sì la quadra kill Di Jinx Abbiamo visto Ken Entrare a fare il delirio Ken bannato bene Aggiungo Però quante di quelle azioni Era effettivamente Tore che faceva Da direttore d'orchestra In quante di quelle azioni Avevamo Thresh che continuava Avanti e indietro Sentenze di morte Scatole Lanterne Le sue lanterne Sono state incredibili Dagli rispetto Arriva però Una sua particolarità Se Thresh È sempre stato uno Dei suoi grandi campioni Rakan è sempre stato Il suo campione E adesso voglio vedere Se hanno un piano Per giocarci attorno Sì bisogna vedere Anche perché È molto interessante Comunque la composizione Dei Mad Lions Madrid Con quel Jin Affiancato a Rakan Un Rakan che comunque Sarà un po' limitato Forse nel roaming Inizialmente D'altronde non puoi Completamente lasciare Da solo un povero Jin Almeno nei primi minuti Però poi sicuramente Potrà affiancarsi A quell'Alex A quelli Sin Che ancora una volta Viene confermato Ed è una duo Molto interessante Qui però Abbiamo Maokai Quindi è effettivamente Lux mid Lux mid Per Sebex Salvo non vogliono Giocare Maokai top Però Non mi impressiona Per carità Una lux mid Per Sebex Ormai Sebex Può giocarmi Anche delle scarpe Con degli occhi Fatta eccezione Per una peculiarità Conosciamo da tempo Coach Cristo E sappiamo benissimo Quelle che sono Alcune delle sue Principali tendenze In draft Non penso Vogliono giocare Maokai tank mid Per andare a negare Rides Ma teniamoci aperti Alla possibilità Che questa cosa Possa succedere Perché Parola di Coach Cristo Il tank mid È il modo migliore Per non far snobbollare Il team avversario Vero Chissà forse Se ci fosse stata una Sindra E un Maokai Dall'altra parte Forse avrei visto Un Maokai mid Pippoli per tutti Ok Rides top Rides top E metti giù Un corchi Ok C'è un triplo scaling Devastante Per il Mad Lions Madred Se qua si arriva A 35 minuti Un T-fight È davvero difficile Da connettere Contro questi Mad Lions È particolare È particolare Perché intanto Rides flexato top Una casa Che da tanto tempo Non andava a calcare Ma Corky in corsia centrale È una invece Delle priorità Che si sono impostate Proprio durante Questa Iberian Cup L'abbiamo già visto ieri E abbiamo visto Che nonostante Le tre sconfitte consecutive Il Corky mid Da parte del Karma clan Era un Corky Che stava davvero Tenendo in piedi Un team Nelle mani di Heroic Per Eren Sono curioso Di vedere In che direzione Voglio andare Perché appunto Stiamo giocando Contro Lux Sta giocando Contro Lux mid Non siamo noi Che fisicamente Ci stiamo giocando contro Anche perché noi Tifiamo per la Lux mid Quindi quella è un'altra questione Lux Corky è un match Un po' particolare Corky ha mobilità Per evitare alcuni Dei controlli chiave Ma Lux è stata baffata E ha più riprese E ormai Può cercare di diventare O un mago da controllo A tutti gli effetti Finalmente abbastanza grande Da giocare Con i grandi Oppure puoi cercare Di impostarla Come un mago da burst Puoi giocare la Lux Che ti va di Luden Concentrazione all'orizzonte E a quel punto sai Che se connette Con un legame luminoso L'avversario è già Bello che è morto Probabilmente sì Dei tanti campioni Che però possono andare A prendere resistenza magica Su un tiratore Effettivamente Corky è uno di questi Corky nella sua build Non disdegna Velocità d'abilità Quindi delle fauci Di Malmortius Potrebbero essere Una risposta specifica Al campione Se non vuole però Optare per l'arco scudo Perché in quel caso Ovviamente hai già La passiva della linea vitale Coperta E' un match up particolare E' un match up Molto particolare Perché ci sono tanti Quei sei e di quei ma E' un tipo di match up Che rischia di rompersi Nel giro di pochissimo E quindi Responsabilità sui jungler La cosa che mi preoccupa Per questo E' che Alex Pilota di nuovo Il suo Lee Sin Esatto Esatto Io comprendo comunque La volontà di mantenere Una sorta di prigione runica Su Eren Fissa Questo giro arriva Come legame luminoso Intanto qui Come Con la migliore Delle colonne suonare Da serie tv Sì Alla Breaking Bad Miami Vice Slash Breaking Bad Esatto Abbiamo l'ingresso Siamo pronti per andare a cucinare Delle palme Delle palme Con Non lo so Con quei colori tipici Molto Retrowave Siamo pronti Siamo pronti Cybex Cometa Per lui Alla fine abbiamo Un setup abbastanza tranquillo Cometa contro Corky Può andare bene Corky se vuole schivare Quella Cometa Una volta che Il rallentamento di Lux Va a segno Deve investire Manovre di spostamento E quindi mana E quindi cooldown importanti Abbiamo un click Che La direzione è ancora ignota Ma ok Sappiamo benissimo Che può andare Sia support Tank Che support AP Li abbiamo visti entrambi Tra l'altro Da parte dei DK Durante appunto La semifinale dei mondiali E un pick che sappiamo Essere ancora forte Sono tra l'altro Curioso di vedere Appunto Che cosa vuole costruire Alex Perché Alex ha garantito Un early game Troppo comodo Ai Mad Madrid Ha avuto troppo libertà D'azione E ha out Gianglato Si boi Proprio sulla pressione Di mappa In base a questo Era lì E continuava a muoversi Meglio Ed accedere prima Ai campi Stavolta Secondo me I match Con hanno la possibilità Di rispondere Assolutamente Potrebbero Potrebbero Perché Topside Allora Effettivamente Nighter Rappresenta di nuovo Una minaccia Per Stamboss Perché voglio dire Ti trovi in una condizione Dove bannato Kennen Ti ha fuori questo Ryze Top Ryze è vicino al livello 2 Quindi bisogna stare attenti A prigioni runiche A concatenamenti di sovraccarichi Col flusso incantato Ecco L'altra cosa interessante È pure quella Forse La cosa che va a enfatizzare Ancora di più La pericolosità Di questo matchup È che a questo giro Nighter In realtà A differenza di quel Kennen Può fare danni Sia a Stamboss Che pulire la wave Che con la prigione runica Essere fuori dal suo range Di autoattacco Esatto Questo è corribile O immobilizzarlo In mezzo ad un'ondata E a quel punto E fare danni a wave Per Graves È totalmente inutile Accumulare armatura Con la grinta Perché stai giocando Contro Ryze Anzi Paradossalmente È ancora più inutile Contro Ryze Di quanto lo fosse Contro Kennen Kennen almeno Inizia di lama di Doran Vuole giocare di autoattacchi E infatti lo vediamo C'è Alex Che sta andando Già in profondità Questo è un Questo è il primo sangue La primera sangre Da parte di Nighter Oddio Sarò sincero Più che primera sangre Qui era primera sangria Perché l'ha completamente ubriacato Con quel flash in avanti È stata un'aggressione Che ha lasciato Stan Totalmente incapace di reagire Perché una volta che è arrivata Dalla prigione runica Ok Hai il flash Ma non è un flash Che ti porta niente E anzi Scambiano i teletrasporti Adesso i due top laner Nighter dopo il primo sangue Già abbiamo lacrima E abbiamo anche Zaffiro extra per lui Rispondono almeno botta A livello di pressione Ti ho detto Questa partita almeno è diversa In questa partita Non abbiamo Gin che c'è depressione Da un lato E Graves che c'è depressione Dall'altro In questa partita I match Possono permettersi Di spezzare la mappa in due Un inizio molto interessante Se non altro Adesso vediamo Per ovvietà Vediamo la corsia Superiore La corsia inferiore Adesso torre Flag Un pochino più Spinti Verso la loro torre Complici ovviamente Maokai I famosi piccoli Posti nel bush E chiaramente Raresh Che con il colpo Di rimbalzo Ha maggior ragione Contro un Gin E necessita Di avvicinarsi All'obiettivo Per colpirlo Può sicuramente Giocare meglio In fase di lane Gin Vuole abilitare Rakan Verso teamfighter Alla fine Con i mad madrid Che hanno Il dps di raids E di corchi La direzione Sembra essere di nuovo Quella E' vero Che stavolta È un dps Più monodimensionale Perché comunque Nella partita di prima Il dps arrivava Sì fisico Che magico E dalle corsie Avevi molta più Agilità sulla mappa Per via del dps Fisico di jinx bot Stavolta il dps Arriva principalmente Dal punto di vista magico Perché il tiratore Che fa danno continuato È un tiratore Con una passiva Molto particolare Si combatte bot side Con flak Che cerca comunque Di tenere la pressione alta E sta outfarmando Misfortune Non ha utilizzato Pozioni Quello è un flak Che l'unica cosa Che lo vuole allontanare Dalla corsia È il fatto che Ha una barra del mana Che prima o poi Si andrà a desaurire Già parlando di outfarm Però qui lo vediamo Per appunto Stenboss E purtroppo qui Atroce il fatto Di dover recollare Al fianco del tuo Del tuo stesso Top laner avversario Con il fatto Che lui però Si porta a casa Un primo sangue Qualche cosa in più Adesso ti sta outfarmando Ti costringe a dover Quasi recollare Oh Stan Oh Stan Sei in un lume Oh Oh No questo è stato brutto Questo è stato brutto Da vedere Oh mio dio Credo che la corsia superiore Sia un attimo finita Sì Semmai è iniziata Perché Dobbiamo considerare Che comunque Già dalle primissime ondate Niter A livello 1 Ha continuato a zonare Stenboss Rimuovendo Due terzi Della sua barra degli HP Prima di andare di flash in Questo ha fatto male Questo ha fatto decisamente male Perché da una cosa del genere Ok lo scettro vampirico Ma adesso come fai a riprenderti Rhyde ha accesso Al capitolo perduto Quindi adesso ha accesso A rigenerazione mana E l'hai visto entrare In quel cespuglio Quindi L'idea Qual era Sai che è lì Sì è Non ho capito Con un lume tra l'altro Molto anche in ritardo Oh no Stan Oh no Stan Da qui poi E rovina E disgrazia Sì Non puoi fare niente Ormai qua Anzi La vera domanda è Quanto ancora I Madlands Vorranno dare Focus a questa corsa superiore Ormai stai imposte Sullo 0-3 Credo che allo 0-4 Tu dia 50 gold Un certo Dai sempre meno gold Alla fine Quindi E la cosa preoccupante Quando Una cosa che sottovediamo spesso Quando diciamo Dai meno gold Dei minion E che nel frattempo Ci sono i minion Eh quello è vero bro Quello è vero E attenzione adesso S farm Flipaccature Eren si trova in mezzo a due Ma la vera domanda è Sì Voi e Sebex sono realmente In mezzo a due La risposta è sì Perché poi l'arrivo di Alex Di flag Perfino con il suo florilegio Se un altro Ancora una volta Sebex ricambia La kill Un uno per uno E ti fa se un altro Respirare un boccone Meno amaro O meglio Ingoiare un boccone Meno amaro Devi guadagnare da qualche parte Devi bloccare il sanguinamento Siamo già Con una situazione Complicata da gestire Con i Mad Madrid Che sono Erano vicini Adesso con il rimbalzo Delle ondate Quella differenza Si sta un pochettino Loccando Erano vicini comunque Alle mille gold Ammetto che Vedere solo 6-700 unità di differenza Con i Mad Madrid Che sono 4-1 Comunque mi fa ben sperare Perché si torna a quel discorso Che facevamo prima Non dà più gold Stem boss Topside E quindi Sono kill Che hanno un valore Comunque secondario Sebex Tra l'altro Non ho ben capito Come quel legame luminoso Si è arrivato a connettere Su Eren Sarò sincero Margine Pixel E tutto quanto Però In ogni caso Abbiamo detto È sicuramente Un Una nota Un pochino più dolce Di una Continua team fight Vabbè anche lì In quel caso Ne fa le spese Il match Copp Persone complicata Si parla di complicato Più che altro Perché non doveva partire Così il game Letteralmente Siamo a 8 minuti Esatto In una versione In una visione più rosia Parlo proprio a livello Di equità 1-1 Tutto al più Con Un quasi parigi totale Perché d'altronde Le corsie Forse con Un 500 gold in più Facciamo 600 Per quella corsia superiore Palesemente Comunque Nighter Non avrebbe mai avuto Grossi problemi Contro di base Un Graves E la cosa che mi preoccupa È però adesso L'insistere su questo Graves Perché Se hai visto Che il ban di Kennen Non porta ad allontanare Il lock su pick Dal danno magico Nelle mani di Nighter Cambiare il Graves Serve cambiare strategia Sì Cambiare direttamente Il Graves Piuttosto Andrei a mettere Sembol su qualcosa Di un pochino più Anche solido Forse a questo punto E cercare il DPS Da altre parti D'altronde è un Zenex Esatto Seguere il problema però Che il numero di partite Disponibili Per andare A studiare gli avversari Sono finite In questo momento Vedi Miss Fortune Botside Che buono utilizzo Della Suprema Per evitare che comunque Ci siano aggressioni Ma la priorità Si traduce in un Drago E la seconda partita Dove i Mad Riescono a cogliere In gambetto Gli avversari E lo stanno facendo Anche con dei perni Importanti Come è quel Rhydes Rhydes andrà a scalare Rhydes sta staccando enormemente In Farm Graves È un Rhydes È tipo un ultra late game Esatto Esatto L'hai detto già prima tu L'unica cosa forse Che possiamo andare Ancora una volta A ricercare Come nota dolce È che a questo giro Seaboy Ha una morte Vero Ha un assist Ma sicuramente 20 di farm in più Rispetto ad Alex Che è già Una buona direzione Nel senso che vuol dire Che comunque Non andare a cedere Completamente alla pressione Delle corsie In draft Permette a Seaboy Di stare in piedi A livello di giungla Che poi per carità Alex Quelle risorse Le ha guadagnate Su una top lane Che sta degenerando Quindi Non è neanche una questione Che ti porta a dire Oh mio dio La giungla è andata Perché comunque Alex sta out Gianglando Seaboy Stavolta Seaboy Sta facendo il suo E se a Seaboy Bastano semplicemente Questi piccoli perni Una miss fortune Che sceglie di andare Di letalità Ma che continua comunque A pressare e farmare Lava di Yomu per lei Seaboy è lì Ma c'è anche Tore Credo il messaggero Un po' di placature Un altro potrebbe fare comodo Un po' di aggressione Per cercare di Anche solo allontanare Un po' di placature Ma alla fine niente di più Nel torno di magico Di questo Si devono accontentare Di quel poco Di addientare Quel boccone Che nella parte precedente Neanche hanno avuto la possibilità All'occasione Che rimosse qua Spiritualmente Morto Ammesso Che No No Morto Un numero di magia D'altronde non è un mago No infatti Anzi Li soffre particolarmente I mago in corsia Lo stiamo vedendo 0-4 Dalla topside Un Graves Che non ha nient'altro da fare Perché comunque Quelle sono abilità Che sono arrivate point blank Rise prigione unica Controllo target Connette Alex Non ha neanche dovuto utilizzare La suprema Tanto stem boss è fragile Si e questo tra l'altro Sarà un problema Continuo Per i match Purtroppo È un È un sanguinamento Di quelli che dovrei Continuare a portarti avanti Perché Anche quando stem boss Dovesse arrivare a 200 di farm Ammesso che ci si possa arrivare Virtualmente in un tempo Un pochino più decente Il problema è che però Rimarrà sempre fragile In confronto a un'idimizzazione Degli avversari Continuerà stata spianata Lui sarà sempre sotto Di un oggetto Almeno Se non di più E guarda qui Tore Che va a prendersi le attenzioni Del mippo alieno Per abilitare Alex della corsia Questo è abbastanza intelligente Come manovra Ma sentono puzza di bruciato I match Indietreggiano Sono quei movimenti Troppo particolari Che dici C'è qualqu'altro Che non come Esatto Sono troppo particolari Sono troppo precisi Perché ha fatto quel movimento Adesso Però bisogna stare attenti a Tore Perché la toccata e fuga È comunque disponibile Alex è in zona Flash Alla Suprema Non è stato spottato Adesso sì Adesso dovrebbero averlo spottato Vero? Sarò sincero Non sono abituato Al range di visione Dei mippi di Maokai È un campione Che non vediamo da tanto tempo Quindi Non ti so dire con certezza Se hanno visto Alex o meno Perché non sono arrivati ping Può essere semplicemente Comunicazione verbale È arrivato ping Sul nippolo Di click Ma nel loro bash Quindi probabilmente O hanno visto O hanno semplicemente Intuito Cosa stava per succedere O non l'hanno visto Offside Due livelli di stacco Ma nel frattempo Si scalda l'azione bot E con un'aggressione Perché ha anche un'ottima Suprema Tore Verrà trovato Nei continui danni E l'ustione di click Un'uccisione Support per support Che va nelle file Nelle file di Maokai Che tutto sommato Potrebbe diventare ancora più resistente Sì poi però deve stare attento Non connette l'onda sonica Bene così Ecco Se devo essere sincero Maokai Lo faccio questa breve Parentesi Maokai Tra tutti i Ovviamente non è Propriamente un support Ma forzato in support Mantiene molto più di tanti altri L'identità di vero tank E dato per cui vediamo Un inizio Occhio Dalle incredibili risorse Che stava già ottenendo La semplice farm È bene così È bene così perché se alzi gli occhi al cielo Guardi il tabellone Ed è alla pari Quindi vedi sì Un lato sanguinante Che è quella corsia superiore Dove purtroppo Stamboss si è trovato a draftare Losing matchup Ma non importa Perché comunque Stai tenendo il tabellone Anzi addirittura Con un paio di centinaia Di unità di vantaggio adesso Shutdown grossi Quelli che stanno prendendo E stavolta per fortuna Non è arrivato Nelle tasche del supporto Sarà un Maokai Da potere magico Vediamo l'incipit Del mandato imperiale Già specchi di vetro di bendol Per lui E gemma infuocata Quindi sarà un Maokai Che comunque sfrutterà Quella kill Per impennare più in fretta Verso l'amplificazione Dando ai propri alleati Non vedo i match Come essi male Cioè voglio dire In questo momento Nonostante L'early disastroso I match Sono in gold lead Hanno perso un drago Che comunque vale Veramente poco al momento E stanno continuando A tenersi in piedi Sul farm di questa mid lane Assolutamente La visione adesso Inizia un po' a cambiare Come prospettiva Allo scoccare Di quel quindicesimo minuto Virtualmente Potremmo avere Un non solo Vantaggio monetario Seppur di poca centinaia Ma dei match In piedi Rispetto al game precedente Esatto Esatto Cercano dalla distanza Di prendere informazioni Con i florileggi Torre comunque A copertura E l'isina è top side Quindi comunque I match Potrebbero cercare Di vedere Il bluff degli avversari Purtroppo Non hanno ancora informazioni Sì deve Sì sì Ormai devi forfettare Quella corsia Anzi devi sperare Che presto o tardi Minniter Per forza di cose Deba andare a prendersi Quella torre Ormai le placature Sono anche cadute Quella torre ormai Deve cadere Presto o tardi Cadrà Drago connesso E Uh Landa infernale Questo è molto interessante Bella speziata Bella speziata E ci piace così Landa infernale Significa che Se i match Dovessero riuscire A prendere Un po' di draghi Dell'elemento portante Intanto si combatte Di nuovo bot Attenzione La natura Prende il sopravvento Click Riesce a fornire Peeling Fondamentale Su Raresh E appena lo dico La natura Ha preso il sopravvento Però poi Diciamo che Non so come va Nel sasso Carta forbice Quando ci vai a mettere Bastoncino fucile Da cecchino Perché comunque Qui è finita male Si boi prova A chiudere le distanze Farebbe poco però Oddio Un buon burst Su Su flak Potiva forse Creare qualcosa Di interessante Sotto torre Eh già Perché secondo me Adesso i danni Potevano anche esserci Qui ormai Stain boss Ha messo su pensione Chiaramente 113 Minion Sicuramente Molto acciaccato Ti dirò Quasi Buono Niter Nel lasciargli Ne così tanti Perché Considerato la situazione Niter Ha dovuto Mantenere la pressione alta Perché stavano muovendo Alex sulla mappa Per gli obiettivi Hanno utilizzato Alex Per il primo drago Poi per il messaggero Questo significa che Niter Ha dovuto costantemente Busciare Quindi non c'è stata Quell'intenzione Da parte di Rhydes Di frapporsi Tra le ondate Este e in bosse Niter Avrebbe potuto affossare Molto di più La fase di corsia Dei macico Ma quando vedi L'avversario 0-4-0 Sai benissimo Che ormai Per te la strada è spienata Tra l'altro 348 le cariche Braccio serafico completo Ha già tutti gli oggetti Della ricetta Dell'oggetto Quindi Esatto Più che altro La cosa assurda La vera domanda A questo punto è Se sei arrivato A uccidere Quattro volte Stem boss Perché non prendere Cinque placature Cinque placature Necco Forse Forse cercavano Anche lì però Vedi di rimando poi Dici ok Mantengo la torre Perché così Stem boss è costretto A venire da me E perdere minion Per forza Va anche detto che Lasciate un po' Va anche detto che Il push in power Di Rhydes Nei primi livelli Lascia un po' Desiderare Perché comunque Rhydes in questo È particolare come campione Rhydes La sua statistica Di combattimento È il mana Oltre che il potere magico E questo significa Che tu comunque Con oggetti Come quella goccia Vai sì a prendere Più forza Nel trade diretto Ma le torri E andiamo E andiamo E andiamo Non ci credo Non ci credo La pozione La pozione L'ha salvato Lì che ci prova Ad andare in profondità Flak ormai è salvo Ma che ripresa Ancora una volta Trovano la struttura Trovano il fight A loro favore Miss Fortune Miracolosa Miracolosa Questo sarà un reset Dove Lux riuscirà A prendersi La concentrazione Nell'orizzonte E i calzari del mago Miss Fortune Due oggetti da letalità Maokai Chiuso il mandato imperiale Estenboss ne ha mangiato Finalmente è in partita Gold reset Non so quanto Si possa essere felici Al massimo di questo Da dire ma Molto relativo Fighter non ruba il gromp Si poi Potrebbe andare a cercare Di intercettarlo Ma deve stare attento Perché ci sono due livelli di stack Qua rivediamo tutto E inizialmente Sembrava una disgrazia Rimacolosa Perché tu vedevi Alex Molto in profondità Che riesce a connettere Trova l'insec perfetto R flash Zero tempi di reazione Lux gaming ragazzi Il bait più vecchio del mondo Quello del lume di controllo Come ci sia Come ci siete cascati Mad Vi posso chiedere come si può 1994 Mamma mia Dietro mi ci metto E ne prendo due con legame Io Correva l'anno in 2000 Si E' così semplice che funziona Alla fine E quel bait E' valso tantissimo Perché adesso Quella Lux E' quel bait Così stupido E' semplice Che non ti aspetto Mamma mia Flak è stato Completamente Annichilito Purificazione poi Purificazione tra l'altro Rubare Bene Bene così ragazzi Bene così Benissimo 3-0-4 Adesso Lux è una minaccia E sono felice di aggiungere Lux Alla lunga lista di minacce Che la champion Ocean di Sebex Può presentare in campionato La vera domanda è Sebex E' veramente Cos'è che non può giocare Perché anche i campioni Che noi abbiamo visto Le domande sono O non voleva giocarli O non si era abbastanza preparato O non era il momento E anche in quel caso Non credo che la risposta sia Non è in grado Esatto Esatto La sua champion pool È il league of legends Il league of legends È il league of legends Il team pool E si va sui draghi Ottimo Si guarda stack Un dragho infernale E Ingranano I magico sono un diesel A quanto pare Stanno ingranando Questa è la cosa più importante Ma dall'altro canto I medlines Madrid Devono però far accadere qualcosa Una pausa Una pausa Tra le tante cose Che potevano far succedere Una pausa è tra quelle Quindi Sì Siamo momentaneamente in pausa Ne approfittiamo per una fotografia Della Della partita Con la seppia Con la seppia Ok Vanno per la sedia della torre Stan è bravo a non cedere risorse Sa che comunque per lui È molto difficile Perché parlo? Perché parlo? Perché? Ecco perché Perché Stan si gira Stan si gira Stan si gira E Alex è costretto a retrocedere Causa Minion Stan boss è still alive Dal fianco Rarish click Rarish click Attenzione Su Alex Una bella Controoffensiva Per Alex C'è poco da fare Stan boss addirittura A raccogliere la kill Oltre al danno La beffa Mad Lions Madrid Non si trovano molto A loro agio Quando sono in svantaggio di gold A quanto pare E A noi piace così A noi piace vedere questi match Che continuano a prendere pressione Sulla mappa Corki costretto costantemente A fare avanti e indietro Sta aspettando adesso Forse la sua passiva Eh sì Click che continua Con questo Maokai Guardingo dal fiume A minacciare gli avversari Per permettere a Stan boss Di riprendere profondità Flakt che è stato zonato Dalla sua stessa giungla Da Seaboy In copertura di Seaboy Abbiamo due pezzi da 90 Che sono Seabex e Raresh Abbiamo visto prima Che cosa possono fare Quei campioni Ormai Siamo in una fase di partita In pieno mid game A due oggetti Lux da burst Miss fortune da letalità Sono due campioni Che sono online Power spike immediato Ma l'abbiamo detto D'altronde Se si arrivasse Per sbaglio A 40 minuti Con una certa equità I Maddelenzo Madrid Avrebbero poi il coltello Da parte del manico Con quella tripletta Di ultra late game Ma in questo momento Con l'itimizzazione Così Economica Di una letalità Di una letalità Raresh Con questa Miss Fortune Esatto Il fatto che Seabex Abbiamo acquisito così Tante risorse Si trovano Anzi Quanto solamente Per se i nostri boss Si ha recuperato davvero tanto Si sta andando Si sta viaggiando Verso Quella Cispado Ma è già completata Si vuoi anche Piuttosto online Esattamente Sei nella Power spike Della composizione stessa Adesso E parlando di Power spike Sta per arrivare Un Serilda Per Miss Fortune Ancora velocità D'abilità nel suo inventario Eren Preve però Bosside con Niter Vogliono intercettarli Flicchino avanti Uh Girobrane Niter Dai danni Eren Riuscirà a salvarsi Seppure con il rotto La cuffia Con quel flash Evita quindi Il ultra mega raggio Iper della morte Di Senders E qui si sono Coordinati un po' male Perché comunque Eren Capisco L'avere Magari Accesso a strumenti Per portarsi al sicuro Ma stiamo parlando Di un Eren Che poteva essere Tranquillamente Smolecolato Con la Suprema di Lux Lux ricordiamo La Suprema Già di per sé Arriva a proccare La concentrazione Dell'orizzonte Perché La gittata Dalla quale riesce A portarla Verso gli avversari È enorme E quindi Sta dando addirittura Per il copricapo Di Rabadon Non ha bisogno Di strumenti Di penetrazione percentuale Perché guarda Gli inventari Degli avversari Abbiamo penetrazione Negli stivali di corchi Abbiamo armatura In quelli di Resin Abbiamo velocità extra Sì non c'è una vera Proprio difesa Esatto Esatto E tutto sommato Lo posso anche comprendere D'altronde Ultra late game Oddio in realtà In realtà Sni Forse qualche difesa in più L'avrei anche opzionata Per rimedellanza D'altronde Hai Per l'appunto Quella tripletta Di ultra late game Mi trovi d'accordo Quindi avresti potuto Sacrificare Del danno Che poi avresti però Trovato In vantaggio Di difesa E avresti trovato Poi in 30-35 minuti Sì Una scommessa Forse anche Dettata Dal game precedente Per questi Mediallions Madrid Li vedo Un po' a nasfare Quando sono in deficit Di gold Ed è una cosa che Può capitare In base a come si reagisce Per appunto A quel deficit Di gold Sei sotto di gold Non ti vedi Abbastanza avanti E allora devi Per forze Forzi Nel creare giocate Non necessario Abbiamo visto Alex Sacrificarsi Quasi per cercare Quell'uccisione su Raresh E poi ne è derivato Un'uccisione per Siboi Abbiamo visto anche In precedenza In corso inferiore Così con un corso inferiore In Mediallions Vedete cercare Di far accadere cose Ma non è nettamente necessario Tu non devi fare Per forza accadere cose A te basta Che non succedano Troppe cose Paradossalmente Se hai una tripla Scaling Allora Sono d'accordo Ma dobbiamo analizzare Tutti e due i lati Della medaglia Nel senso È un ragionamento Assolutamente coerente Solo che Se mettiamo Questi due team Uno di fronte all'altro In un sistema In cui non succede Niente per troppo tempo Chi è che davvero Ne esce in testa Perché Da un lato Abbiamo la percezione Di un corchi Che per adesso Non ha fatto molto Perché comunque Quello che è riuscito A ottenere L'ho ottenuto principalmente In brevi schermagli In cui si raccoglieva Quello che si poteva Ma che sta scalando Sta scalando Su il predatore d'essenza Sta scalando Su Non hai perché Rispetta stem boss Insider Ok sta arrivando Diego Dicevo Quando Eren Andrà a chiudere Muramana È il predatore d'essenza Un singolo d'attacco Dalla distanza È micidiale Perché significa scaricare Il danno bonus Della lama incantata Del predatore d'essenza La possibilità di critico Al 40% I danni bonus Della Muramana Che ha chiuso adesso Le sue stack Quindi È vero I Mad Madrid Stanno giocando Rispettando molto di più I match Rispetto al game precedente E perché I match Qua hanno gold lead Voglio dire È una cosa che vediamo noi Non vedono loro Ma è una cosa che Guarda vanno direttamente Sul Baron Si rendono conto Che la Muramana È uno spike fondamentale Vogliono lottare con Rise morto A noi va bene questo A noi va bene questo Sì tra l'altro La spiegazione Poco Fatta poco fa Proprio su quello spike Di Maramone di Eren Comunque l'abbiamo già sentita Accennata quasi Senza neanche quel completamento Nel team fight precedente Dove L'unico singolo colpo di Eren Ha one shotato praticamente Se non sbaglio era Rush Sì Viene però preso un drago E questo è un soul point Per i match Mamma mia gigante Questo per loro Beh se consideriamo I loro inventari Sì Perché sono degli inventari Che comunque iniziano A prendere delle statistiche Belle grosse Avere già due infernali È già una grossa conquista Di per sé Flakd è stato appena Fotografato Da Sebex Al centro della corsia Sì 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 Mi piace questa tecnica fotografica Tra l'altro Parliamo anche Velocemente Dell'interazione Con l'anima stessa Del drago infernale Su Quella tipologia di temizzazione A maggior ragione anche E la tipologia di Damage output Di qualcuno I campioni Per Raresh Per Sebex Broccare quel pop up Di danni Dell'anima infernale È fondamentale Ed è un burst Eccezionale Che ti permette Anche di venire incontro A O meglio Strizza l'occhio A un late game Dove tecnicamente In confronto agli altri tre Perderesti qualcosina Ma quell'anima Ti tiene in partita Voglio aggiungere qualcosa A tutto questo discorso Perché Che è andato direttamente Per Luden Concentrazione dell'orizzonte E copricapo di Rabadon È il tritico di oggetti Che ti fornisce Più potere magico grezzo Possibile Click viene aggredito da Eren Ma niente da fare Per la side lane Questo significa Che già quei due draghi infernali Che vediamo Nell'inventario dei Machko Nel tabellone dei Machko Sono due draghi Che stanno moltiplicando Dei valori già enormi Di base Se i Machko Riescono a raggiungere Quel terzo drago Verso l'anima Non solo significa Che hanno accesso A quella grossa esplosione Ma significa Che Lux Può verosimilmente Uccidere Flakt Con una singola Suprema Quella Suprema Che prima abbiamo visto Smezzare la vita Del tiratore nemico Lo può arrivare a uccidere Adesso Niter Ha il teletrasporto disponibile Pusha side Arriva la chiamata alla ribalta Un po' di danni Ricerca Seiboi chiaramente Ricercano gli ultimi last hit Il raggio Facile per i Machko Riuscire a portarsi a casa Così il barone Adesso devono solo correre ai ripari Ora in avanti E devono riuscirci Le mosse Forleggio Ottimo il bullet time Nescono comunque abbastanza indenni Ai 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 Però Quel kick Quel kick Ok però Ok Meglio di niente E cade se non altro Alex Poteva essere rovinoso Un 2 a 0 Punito per i med E attenzione però Niter Arrivasi poi Ottimo Ottimo Un 2 per 2 Fondamentale Una sorta di reset Qualcimamente Però ci sono 50 secondi L'unica cosa negativa È che aver perso l'Aresh Permette ai med Di poter pushare su questa torre Non solo Permette ai med Cioè i med hanno fondamentalmente Rimosso due buff del barone E uno di questi L'hanno rimosso dallo split pusher E questa è la cosa pesante Dovevi tenere Stan in vita Può morire click Nel momento in cui hai visto i med Lanciarsi tutti su click Lascia morire click Perché click comunque Deve giocare di fianco agli alleati Non è un Maokai Che può Andare da solo In side lane a split pushare E vediamo come è andato il tutto Perché Abbiamo Cybex Che vuole assicurarsi La conquista dell'obiettivo Con la Suprema Inoltre È stata una Suprema Che aveva lasciato il barone A 334 HP Range di punizione Ma hanno rischiato Perché Alex era lì in zona Sì la cosa positiva È che è arrivato il fumogeno Di Steboss Che ha sicuramente ritardato Un po' Alex Questo è stato fondamentale Poi la Suprema di click Bellissima Sul teletrasporto Di Nighter Non gli ha permesso Di poter chiudere Insieme al team La I match È stato molto importante Esatto Si preme ancora col barone Adesso quartetto Dei match costa In una sacca Deve stare di fianco ai compagni E vanno a mandare Seaboy In split push Alla fine può fare Tranquillamente il suo È un Diego da critico Tanta velocità d'attacco Possono lasciarlo lì In side lane Mentre la pressione mid Grazie alla mano del barone Arriva verso la torre interna Alex cerca Onde soniche Per disincentivare Gli avversari dal push Ma nel frattempo Hai Diego Hai Diego che è lì Tranquillo Sulla sua corsia Che si sta mangiando Le sue ondate E le sue torri Assolutamente Anzi La cosa più che altro assurda È stata proprio Quella legata al fatto Che nonostante Quelle uccisioni Fatte su Steam Boss Hai lasciato davvero Tantissimo spazio E click Lui si sta portando Verso già una seconda torre Insieme a Steam Boss E insieme a Raresh I Mad Lions Non sono pronti I Mad Lions Si accontentano Del dover perdere Questo lato di mappa E lo scambiano Con il lato superiore Alla fine Corky è tornato in base È Raiz Che sta scambiando Con Lux Lux potrebbe cercare Un'aggressione frontale Ma Raiz Ha già preso Quello che poteva Prendere su quel lato di mappa Cadere in Ibitone Sì è uno scambio Un po' strano Questo Più che altro perché Se proprio volete scambiare Bastava Niter Non serviva anche Eren Con la corsia superiore Credo che In generale Non si aspettavano Un push così Consistente Al lato macico Erano poco preparati Forse si aspettavano Massimo una torre E poi niente I Nib Bravi macico Comunque a giocare bene Su questa mappa Attenzione Adesso click Falciato Distrutto Falciato Completamente Smolegolato Si poi si trova Dalla parte Sbagliata purtroppo Grazie a quel kick Arriva una doppia incisione Poi la superiore Stai boss E comunque va a punire Torre Con quei pochi capi rimasti Ma è un 2x1 Che va a rimuovere Tra l'altro Il jungler Proprio nel momento Fondamentale 10 secondi È quella la cosa Che fa male E ora speriamo Di Sebex Esatto Speri Ora nella superiore Di Sebex Eren si porta in avanti Cercano Sebex E infatti Cercano Sebex La distanza Può di dare Niter È un pazzo Niter Flash Stasi Morirà 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 E come Flak in avanti Un suicidio Sono appena finitati I Midlands Questo è fondamentale Per i match Non ho davvero capito Cosa sia successo Puntano al drago A questo punto Ancora 10 secondi Prima di Sebex C'è la punizione Chiaramente Arriverà Eccoli Però Il suicidio Ora si rischia grosso Ora si rischia di essere chiusi Siamo alto per Flak Flak viene inseguito Alex avanti e indietro Grazie al blue buff Flak è ancora sotto visione Sta arrivando Rakan Serve di sinescare adesso Raresch rischia Ehi Ehi Raresch Grid Molto grid Richiamano te il trasporto Vorrebbero un follow up Ma c'è Torre E Bex Il raggio Un gran errore Purtroppo Un gran errore di chasing Fino a un certo punto Ci sono i super in base Quindi prendere tempo agli avversari Hai quasi tutto tempo Vero Hai quasi tutto tempo E liberi la corsia centrale Paradossalmente Infatti Torre che viene conquistata Si puscia sulla corsia centrale Dell'inibitore Pronto sommato Azioni che hanno Comunque creato Del disagio O è tanto aggiungerei Perché se andiamo a vedere Comunque la base Dei Midlions A pezzi Hai comunque la corsia inferiore Azzoppata di inibitore Hai le torri del Nexus Che sono state già danneggiate In questo Hai Flact che sta provando A fare danno Ma ci troviamo in una fase centrale Di partita Dove c'è il collezionista E che comunque Richiede che quel gin Si vada ad esporre Per far danno Knighter Pazzo furioso Quello scatto in avanti Quell'impeto in avanti Per cercare di chiudere su Sebex Zero rispetto Verso la clessidra di Zonia Sembra quelle classiche situazioni Dove la gente poi si lamenta Che la stasi è broken Ma semplicemente Non l'hai rispettata In team fight Voglio dire Non Si sono fatti trovare Col sangue agli occhi Mad Lions Assolutamente In ogni caso Vediamo Ormai un vantaggio Consistente Sicuramente Ma ci si avvicina Su minutaggi Interessanti Pericolosamente Interessanti Per un team E per l'altro Chiaramente Sebex A capo di tutto Con tanto di bandierina Si sta portando avanti Verso quella che È quasi Una build Conclusa Un oggetto Si c'è l'ultimo slot Nello di Doran ancora lì Mad puntano alle strutture Ma Comunque c'è il barone Che sta per arrivare Abbiamo 25 secondi Abbiamo stem boss Che va a contestare Niter Niter Non riesce neanche Ad affacciarsi alla torre Perché stanno arrivando tutti Click Sebex Niter Anzi Deve correre i ripari E in fretta Niter Che fai ancora lì Pazzo completo Niter Niter sta giocando Veramente Si Sta andando Non so se è volontà O semplice Proprio il torero Con il sangue negli occhi Però wait Perché adesso C'è il barone up E i med sono già Sull'obiettivo C'è si boi lì Dietro la tana Comunque c'è visione Da parte Dei macico Che riusciranno a ruotare Ma questo va a scoprire Stem bossa in side lane La situazione è tesissima La situazione è veramente Tanto tesa al momento È un gioco di visione Dove Al momento si boi Sembra avere la mano vincente Flak Non ha visto Quello di controllo Esatto Potrebbero chiudere Flak Flak è morto Regressione Flak è vivo Dall'azione Flak è morto Bene Flak è morto Questo è ottimo La superma stessa Va a connettere La parte si boi Su Flak Sfraga tutto E non riesce Nel frattempo Niter Se è mossa Se è mossa Niter Oddio quello side step È morto È morto È morto Sì bene così Orgoglio nazionale Ste bosse Il magico Tira un dritto Sarà 1-1 Potrebbero farcela Ci sono 30 secondi A Flak 50 Niter Possono tirare dritto C'è anche 3 sport Ce la fanno Ce la fanno Ce la fanno E come Vogliono concludere Facilmente Tor è esploso Alex è forte Quella stasi Ste bosse Trovano una fantastica Uccisione Sul povero Niter E su Eren E signori 1-1 Magico Concludono Tutto da rifare Bravi Magico Che tornano all'interno Della serie Solidi Molto solidi Voglio dire È arrivato tramite Lux Vedere Lux Riuscire a portare a casa Questa vittoria È stato qualcosa Che non mi sarei aspettato Ban? Non penso Non penso Perché significa Che probabilmente A quel punto Sebex giocherà Bex E farà più o meno La stessa cosa Sono Allora Parliamoci chiaro Sono molto sorpreso Da quanto i Med L'abbiano tirata a dritta Perché I Med Avevano il controllo totale Di questa partita Avevano il controllo Della topside Avevano il controllo Della pressione in giungla Che la topside Stava generando Avevano il controllo Dello scaling di Ryze Nei confronti di un Graves Che non stava giocando Una partita E Semplicemente Vanno in tunnel vision Su delle uccisioni Ignorando completamente I concetti macroscopici Attorno ai quali I Macico stavano riprendendo La partita in mano E vanno proprio Ad inseguire I Macico Col sangue agli occhi Dentro a dei corridoi Controllo suprema di Lux Controllo suprema di Miss Fortune E quando la cosa Si esaurisce Non c'era più niente da fare Già E questo conto infatti Porta i Macico Sull'1 a 1 Quindi tutto da rifare Ricordiamo In best of 5 Ci vorranno almeno Altri due game Da una parte E dall'altra O addirittura Il silver scrapes Ma signori Come sempre Pausa E torno qui Su PG Esports E torno qui